ciao ragazzi faccio questo video perché vedo che molte persone hanno difficoltà a vedere un film streaming si apre il browser google chrome firefox quello che volete andate su google digitati italia film ok il primo link che vi esce è questo qui cliccate sopra potete scegliere i film o nelle varie categorie se sapete il titolo del film lo scrivete qui direttamente le serie i documentari e c'è anche questa categoria di solito gli ultimi film aggiunti cioè quelli che stanno al cinema che ogni giorno aggiungono film stanno qui ad esempio oggi dovrebbero aver aggiunto questo film qui lo chiamavano oggi gruppo un film che è uscito al cinema da poco clic di sopra scorrete la pagina verso il basso così 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 lo potete vedere o da questa schermata che vi asce così e potete scegliere o video mega o open load si preme play le pagine di pubblicità i pop up che si aprono in automatico fate così e li chiudete perché ogni volta che cliccate si apre della pubblicità aggiuntiva e adesso dovrebbe partire il video ok altrimenti potete fare così qui sotto c'è scritto now video video stream player quello che volete andate su now video e video sono i migliori premi sopra scorrete la pagina verso il basso le pagine che si aprono le chiudi scorri verso il basso altra pagina chiudi adesso qui proceed to video procedere al video clicchi clicchi ancora clicchi 2 3 volte finché non si apre si apre la pagina play e ecco qui parte il video quando parte allarghi lo schermo ok un altro metodo è questo se sappiamo direttamente il titolo del film non so per esempio blu 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 streaming enter il primo sito i primi siti che ci escono fuori di solito sono i migliori tipo cb 01 alta definizione clicchiamo sul cb 01 scorriamo la pagina verso il basso come prima qui ci sono tutti i link now video dove c'è scritto streaming questi sono tutti i link ottimi per guardare video il film o sembra come prima c'è la possibilità anche di vedere direttamente qui però si carica più lentamente è meglio andare qui da un video cliccare per proseguire questo si chiude ancora clicchiamo di nuovo questo è il mio conto è a 622 mila e un dollaro continuo tutti i video ancora 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 chiudiamo tutte le pagine pubblicità aperte ok pubblicità ancora chiudiamo play ok adesso ecco il video il film aspettiamo cinque minuti che si carica si fa una stricetta grigia qui sotto nella barra questa striscia arancione diventerà grigia significa che il film si sta caricando e possiamo mettere il film si sta caricando e questo film si sta caricando il film il film si sta caricando ciao ragazzi